È un momento importante perché è un momento di ascolto, che è esattamente quello che io sto facendo oggi, che faccio andando in giro quando ne ho l'opportunità per ascoltare dalla voce degli imprenditori, dei soggetti realmente interessati. E mi piace oggi l'idea di poter stare qui a questa prima giornata dell'ascolto delle imprese perché noi ci confrontiamo con quelli che effettivamente hanno i problemi, hanno anche le proposte e spesso insieme possiamo costruire le soluzioni. Oggi lei ha incontrato anche i sindacati, quali le maggiori criticità che le hanno esposto? Le criticità sono quelle che stiamo cercando di affrontare, di dare una prospettiva alle future generazioni, ai ragazzi e alle ragazze rispetto ai quali stiamo intervenendo con una serie di strumenti e per ultimo richiamo tutte le politiche che abbiamo messo in campo per il mezzogiorno e l'ultimo decreto è proprio io resto al sud e la banca delle terre incolte. Ma abbiamo parlato anche di lavori socialmente utili che troveranno una risposta dentro la legge di stabilità con la richiesta di 50 milioni di euro per portare finalmente queste persone verso un percorso della stabilizzazione. Oggi noi inauguriamo con il Vice Ministro il Parlamento delle Imprese che è stato approvato dalla Giunta e dal Consiglio un mese fa. Il Parlamento delle Imprese che ci siamo inventati viene da Open Camera a Cosenza quindi è quella apertura della Camera ma principalmente l'ascolto delle imprese. Noi abbiamo girato la piramide, abbiamo messo in alto le imprese. Poi viene il Consiglio, la Giunta, il Presidente, i dirigenti e i dipendenti. Questo perché le imprese è quelle che in realtà ci finanzia, è quelle che ci dà il diritto annuale quindi per noi dobbiamo soddisfare ogni esigenza delle imprese. Il Parlamento delle Imprese perché abbiamo avvertito anche dall'Ox che c'è poco ascolto quindi con Open Camera l'avevamo già iniziato con quelle tavole rotonde tavole rotonde che evitevamo assessori, evitevamo ministri, evitevamo tecnici per affrontare i problemi reali, i problemi veri che venivano direttamente dalle imprese tramite l'associazione di categoria. Grazie a tutti.